Buongiorno a tutti e benvenuti ad un altro numero di It's Verona. Dopo l'incontro con una delle più grandi economisti britanniche, Mrs. Vicky Price, con cui abbiamo avuto l'onore di presentare il suo libro, siamo altrettanto onorati di condividere con voi il primo numero della nostra rubrica Cultura, Società e Sicurezza, dove vogliamo estendere il dibattito sulla sicurezza non solo in ambito professionale, ma proprio, come dice il nome, anche alla cultura, al mondo dello spettacolo, allo sport, perché, dopo tutto, la sicurezza internazionale o le sue varie sfaccettature, possono avere un effetto anche sulla vita veramente di ognuno di noi. E detto ciò, non possiamo che essere più che contenti di iniziare questo nuovo percorso con un grandissimo atleta, a cui diamo il benvenuto oggi, Luca Vettori. Luca, benvenuto, siamo contentissimi. Benvenuto. Grazie, grazie, grazie dell'ospitalità. Luca non solo è un grandissimo palavolista, e ovviamente da ex palavolista sono iper onorato di poterlo ospitare oggi, però Luca è anche un personaggio pubblico di rilievo, una persona a cui davvero piace confrontarsi anche in vari ambiti, per cui siamo, ancora una volta, lo ripeto, siamo veramente contenti. Molto brevemente, Luca Vettori è uno dei migliori opposti nel panorama italiano ed internazionale, ovviamente per chi non lo dovesse conoscere, giocatore di volley, quest'anno ha militato nelle fine dell'Itas Trentino, ha vinto la medaglia di bronzo agli europei 2015 con la nazionale, nonché un argento all'Univiani di Rio del 2016. Detto ciò, oggi però siamo qui con Luca per parlare, appunto come avevamo anticipato prima, di diversi aspetti della sicurezza internazionale, ma ovviamente visti dal suo punto di vista, quindi dal punto di vista di un atleta professionista che ha girato il mondo, che gioca continuamente con compagni da diverse culture, paesi, quindi sarà molto interessante. Detto ciò, Luca, come abbiamo già accennato molto brevemente, inizierò io poi il professor Zeno Leoni, mio collega all'Accademia della Difesa del Regno Unito, poi farà altre domande. Essendo per natura trasversale, il tema della sicurezza, come dicevamo, può avere un effetto anche sulla vita degli atleti professionisti, proprio come te. Nella tua personale esperienza, sia di club di primissima fascia, sia di nazionale, hai mai sentito il peso di certe questioni legate alla situazione internazionale? Facciamo finta, rumori di guerra, terrorismo, crisi umanitarie. Se ne parla? Cosa ne pensi a riguardo? Allora, il tema è molto vasto e nel momento in cui mi poni questa domanda mi vengono in mente un paio di aneddoti, uno riguardante il club e uno riguardante magari più la nazionale. È successo che nel 2016, credo, con Modena, durante la Champions League abbiamo fatto una partita a Istanbul e proprio quel giorno a Istanbul, non mi ricordo esattamente il periodo comunque doveva essere circa poco prima della primavera, ci fu un attentato, proprio il giorno in cui noi ci trovavamo là e diciamo che la percezione che noi abbiamo avuto sia durante la partita che subito dopo è stata di come uno sbigottimento, un'allerta che non c'era assolutamente propria perché noi eravamo molto molto forestieri, eravamo casualmente a Istanbul nel momento in cui poteva essere Istanbul come poteva essere un'altra città quella in cui disputare questa gara. Eppure c'era un contorno fuori che imponeva a noi di, oltre che sportivi, inserirci in quella città, in quella dimensione, ovviamente come dei cittadini italiani o dei cittadini turisti o dei cittadini che si trovavano in una situazione di pseudoemergenza comunque. Fortunatamente non ci furono grandissime, almeno neanche credo in termini di morti o feriti, però non ci furono delle gravi conseguenze e perdiamo la partita, ma quello fu una situazione in cui lo sport viene un po' diviso a metà, come ferito, no? Ci si trova in una situazione in cui, secondo me, oltre che sportivi appunto ci si spoglia totalmente di quello che si sta facendo e quindi se non gli si dedica magari una riflessione sia con la società che tra giocatori potrebbe essere un qualcosa di visto un po' superficialmente, ma a volte, no? e quindi il tema della sicurezza è un tema che a volte punge e fa breccia nel momento in cui si è coinvolti in prima persona e coinvolge una situazione. In termini un pochino diversi, ma credo che come sicurezza potrebbe rientrare, è stato durante l'Olimpiade, in cui Rio, come si sa, insomma, la metropoli aveva delle problematiche decisamente spiccate eppure la percezione che si dava agli atleti coinvolti e agli olimpionici, insomma, era come di una corsia un po' di preferenza, no? Quindi lo stesso, paradossalmente, nel traffico il pullman evitava una serie di quartieri, non toccava una serie di percorsi e di strade, ma è veramente questa la sicurezza? Cioè, è un po' un occultare o invece è un... Sì, non si capisce quanto lo sportivo, appunto, sia un po' assegnato, gli venga concesso, ecco, uno spazio un po' privilegiato, o per i suoi occhi o per la sua sicurezza in quanto status. E l'Olimpiade, nella sua bellezza, nella sua grandezza, in tutte le sue problematiche, forse aveva anche un po' questa parte, no? Quindi una sicurezza che doveva essere ostentata e un po' celata, nei momenti in cui sia le dinamiche, appunto, all'interno di alcuni quartieri della metropoli non venivano fatte vedere né ai media, né agli atleti, né a tutta la stampa, ecco. Quindi questo potrebbe essere un'altra parte che all'interno dello sport è presente, ecco. Quindi una sicurezza che, per essere garantita, non ti fa vedere delle altre cose, ecco. Grazie mille. Grazie Luca, è molto interessante. Hai parlato di spaccature, di visioni nello sport, ma anche, nell'ultima parte, di degrado sociale. Allora penso che questo si collega alla prossima domanda. Come sai, l'America e l'Europa sono state scosse dalle manifestazioni che si sono seguita la morte violenta di un afroamericano, George Floyd. Quindi ti volevamo chiedere, in base alla tua esperienza di sportivo, lo sport è uno spazio che è o dovrebbe essere senza confini, uno spazio internazionalizzato dove tu, quindi, ti confronti con giocatori, colleghi, persone che provengono da altri paesi, altre culture, da altre storie. Quindi che cosa può fare, secondo te, lo sport per favorire integrazione, coesistenza e rispetto, o più in generale, per risolvere i problemi che hai menzionato poco fa? Allora, forse all'interno dello sport ci sono tante macro-categorie. Parlando di pallavolo, credo che ci sia una vicinanza tra atleti, e anche negli spogliatoi, nelle altre squadre, tra nazionali, è qualcosa di molto bello, credo anche abbastanza unico. Gli sport, come sappiamo, sono vari e molto colorati. Credo che parlando di pallavolo ci sia questa attenzione nei confronti dell'altro, quindi essendo uno sport di squadra, essendo uno sport legato a un'inclusione, a una relazione, sia pressoché imprescindibile. Anzi, nel momento in cui dovessero esserci questi episodi, sono gli episodi che sono un po' delle macchie, sono un po' qualcosa di inedito. Legato allo spogliatoio direi più questo, quindi c'è un'apertura, un confronto e un dialogo tra atleti. Nel momento in cui, invece, un altro aneddoto che mi viene in mente, durante le nazionali abbiamo fatto spesso la World League, anche con campionati comunque abbastanza lontani dalla nostra cultura, come quella iraniana. C'era stato questo episodio di una tifosa che aveva partecipato in Italia, era stata ripresa in televisione senza velo, o comunque anche sugli spalti, e lì era stata allontanata ed è stata incarcerata. Ora, purtroppo non so come sia finita questa storia, spero nel migliore dei modi. L'avevamo seguita abbastanza in prima linea, anche con la nazionale, perché era qualcosa che aveva fatto molto rumore, giustamente, e quindi dei diritti che vengono negati e che, secondo noi, dovevano essere, insomma, a prescindere dalla propria cultura, dal proprio credo, doveva esserci all'interno dello sport questa possibilità di manifestare, questa possibilità di essere coinvolti dallo sport. Credo che spesso lo sport, soprattutto calcistico, non abbia un'attenzione e non sia in qualche modo veicolo, non ci sia una pedagogia tra i tifosi. E quindi non si parli di diversità, non si parli di fragilità, non si parli di empatia. E questo, ovviamente, nel momento in cui si parla di tifosi e di spalti, è qualcosa che credo che si respiri in modo molto più denso. Anche perché il calcio, forse, è qualcosa di più distante, no? Il calciatore è messo su un piedistallo che assolutamente non è proprio allo sportivo medio, che potrebbe essere l'atleta o il pallavolista. E' bello, credo, scardinare da sportivo, da pallavolista, da atleta, questo modo di pensare alla dinamica di tifoso, di super uomo, e quindi cercare di nuovo una nuova relazione, un incontro, come si diceva, tra diritti, tra differenti pensieri e tra parti in dialogo. Nel momento in cui sugli spalti si manifesta in qualche modo un dolore o uno sfogo, ecco, io credo che non ci sia il giusto termometro anche per comprendere, per capire questo tipo di spettacolo anche. Grazie mille. Senti, parlando di rapporti umani, socialità, gruppo, ma da un altro punto di vista, secondo te qual è l'impatto che ha avuto il Covid sul volley o che potrà avere nei prossimi mesi, nei prossimi anni? E' difficile questa domanda perché siamo un po' nel mezzo, quindi ha lasciato tutti molto sbigottiti anche questa cosa del trovarsi e non finire, quindi avere un percorso che non si chiude e in termini di sicurezza io credo che la scelta sia stata quella più giusta, più assenata, in un momento in cui comunque non c'era ancora una consapevolezza, non si capiva bene che cosa si stesse facendo, quindi lo sport e la palla a volo forse doveva essere in quel momento chiusa e quindi a prescindere dal diletto che avremmo potuto portare, ma io credo che ci fosse proprio in termini di sicurezza un qualcosa che venisse prima. Rispetto al futuro concordo con chi dice che uno sport come la pallavolo, come può essere il basket, senza pubblico, all'interno dei palazzetti sia un po' snaturato, quindi soltanto di televisione è mutilato, manca una parte. Io confido che all'interno delle normative e di questo periodo più autunale, invernale, ci sia anche un miglioramento di responsabilità degli atleti, di responsabilità civile, di tutte queste parti che magari all'inizio, seppur accolte inizialmente con grande fervore, siamo più, tutte le persone, tutti i cittadini, sia più vicini anche a queste tematiche. Nel momento in cui sono uscite le famose graduatorie che la pallavolo compariva come tra lo sport più pericoloso, diciamo, fa un po' ridere, non ci metto il becco, però credo che insomma la situazione fosse grave per tutti, ma che ci siano delle soluzioni, almeno e lo auguro, poi ci sono appunto gli esperti. Quello che non deve essere e quello che non deve succedere credo che possa essere un timore negli anni venturi, magari anche più legati ai giovani, legati più alle famiglie, di iscrivere alla pallavolo perché, di non iscrivere alla pallavolo perché è uno sport pericoloso, quando la pericolosità non è data dalla pallavolo, ma è data insomma da una circostanza esterna e poi credo che sia fondamentale pensare quanto la pallavolo anzi sia uno sport in generale uno sport che sia all'aria aperta che sia al chiuso quindi in serie minori, in serie più grandi abbia questa possibilità di salute questa sanità quindi è un po' il paradosso del coronavirus il fatto che all'interno della reclusione in casa in realtà non ci fosse qualcosa di così salutare se non la sicurezza ma nell'animo e nel corpo di noi atleti di noi cittadini ci deve essere un contatto ci deve essere un'apertura ci deve essere un po' un fuoriuscire grazie mille Luca senti ovviamente da ex pallavolista non posso che augurarmi che la situazione migliori perché sappiamo che il nostro comunque è un grande sport che porta insieme anche molte famiglie quindi davvero con tutto il cuore ci auguriamo che si possa riprendere nel migliore dei modi ci avviamo verso la conclusione Luca e ti volevo chiedere visto che abbiamo menzionato diversi aspetti terrorismo diritti negati pandemie ma secondo te come potrebbe porsi lo sport professionista quindi volley compreso di fronte a questi grandi temi di sicurezza è giusto pensarci tu prima hai menzionato qualcosa rispetto all'esperienza di Rio è giusto pensarci è giusto prendere posizioni è giusto fare qualcosa in tal senso e poi quando ovviamente metti in base anche a a quello che vorrei dire ti faccio un'ulteriore e ultima domanda qual è il messaggio che vorresti che passasse da sportivo e pallavolista credo che in in modo sempre maggiore ci sia questo bisogno e questa necessità anche negli ultimi anni a prescindere dal coronavirus di informare di essere informati quindi arrivare a delle fonti in modo sempre più più netto più consapevole è un percorso qualcosa di difficile qualcosa che si deve insegnare anche quindi lo sport e un po' tutte le parti che sono state coinvolte in questo periodo hanno bisogno di questo credo quindi di una chiarezza di una trasparenza di una limpidità che che porti informazioni porti nozioni e porti in questo caso anche una tranquillità culturale insomma e ricordando che come dicevo un pochino prima ci deve essere la la sicurezza di poter raggiungere e avere accesso a tutte le informazioni a tutte a tutti gli studi ci deve essere la la trinqualità e la sicurezza di poter poter esercitare la la propria libertà quindi la propria libertà a livello civile a livello di quotidiano insomma e lo sport può può anche in questo essere essere un veicolo un veicolo può portare dei messaggi importanti lo stesso rinvio dell'olimpiade da da un anno è qualcosa di credo gigantesco enorme e si spera che che questa questo provvedimento insomma sia sia funzionale per il Giappone stesse per lo sport stesso per l'olimpiade stessa e come dicevo prima è necessario che si pensi sia la sicurezza individuale senza mettere per intaglio quella che è l'emanazione e il movimento della propria libertà occorre che sia dal punto di vista informativo che dal punto di vista della sicurezza ci sia una fiducia da parte di chi viene rappresentato e che non deve più basarsi soltanto su una percezione frivola ma su una percezione consolidata grazie 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 a tutti.